Ebbene questo è un video su un gioco per il cellulare ma è anche l'unico modo per giocare con mio fratello Abbiamo registrato un ben gameplay su un gioco ovviamente per telefono Quindi vi dico buona visione Oi si senti? Vai muo si sente vai 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 starta starta Tutto a posto no? Si si sei tu l'ostomo eh Si vai apri la mappa e decidi metti il segnalino Che so Metti qua Vai ok Scendiamo vai Dove sei? Che bel gioco che è questo No sto sopra di te sto sopra di cioè tu stai sopra di me Ah no eccoti Sto diciamo alla tua destra Ci vedo Mamma mia che brutto questo gioco Eh? Ma hai visto? T'ho visto t'ho visto Allora vieni dove sto andando io che ti ho trovato pure la macchina Si si ho visto ti vedo ti vedo ti vedo Io ti seguo perché non so giocare a questo gioco No tranquillo non vi ci pensi Mi devi proteggere Eh? Devi proteggere perché io non so niente Sì ti lascia un fucile a pompa dentro casa eh No Un fucile a pompa con il tetto Sto ti lascio pure questi qua dai Sei entrato? Ma da che per lo stai io? Eh sto cercando di prendere queste armette Aspetta aspetta che ti vengo a prendere con la macchina La macchina bella Oddio Lo sai che sembra? Sembra quella una che usano i turisti per andare tipo in Spagna A queste robe così Sì Se riesci fuori la vedi Sei qua Sei qua Fermo Ah ho capito Vai guida tu No dove stai io? Ah comunque all'altra casa Quella dove stavo io Ci sta Come il cavolo si chiama? Un fucile a pompa E l'elmetto E un medipack Se ci vai Dove? Dove devo andare? Eh Pratico Allora Seguimi Seguimi Ma non giro qua Ma cazzo faccio il giro a pompa Si Non giro Dai dammi Dammi No no dai Ti guida tu Dai 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 Ti guida tu Ah va bene Qui tu io levo ti allora Ok vai entra Io sparo Io sparo Io sparo Come si faccia a sparare? Non puoi sparare Come non si può sparare? È inutile allora Aspetta È inutile allora Aspetta vai scendi qua Vai che ti proteggo io Dai eh Mi proteggi tu Vai No ma dove stai andando? Qua dentro? Qua ci sta qualcos'altro Qua ci sta qualcos'altro Aspetta aspetta No mi sono sbagliato Eh no ma allora non ti serve Non ti serve Se non c'hai l'armatura da riparare Non ti serve Ah ok Allora Oh macchina Macchina Dove? Ah Dove? Ma non stavo Qua 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 la sento qua Come la senti? Eh io non ce l'ho all'audio Eccola 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 da Da 210 Oddio Sparagli Oh attento C'è pure un nemico Madonna Oh attento lì giù Attento lì giù Attento lì giù eh Vi sono qualcuno di brutto Molto brutto Eccolo si arriva qua Si arriva qua Eccola a destra a destra Noo Non c'ho più munizioni Ah si L'ho ucciso L'ho ucciso Occhio 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 ti sta sparando Vieni qua Vieni qua sull'auto Vieni qua sull'auto Scappa scappa Vieni qua Vieni qua Vai 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 Scappa 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 Qui vuoi sparare Non mi sbaglio Che vuoi sparare Ci sta inseguendo? No Eh non lo so Gira di tutto Vuoi girarlo C'è 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 Ti sta sparando Vai vai Ah ah Mi sta Ah mi stanno facendo male Malissimo malissimo Vai via Vai via Vai via Vai via Ce l'abbiamo dietro Ce l'ho dietro Davide sta Sta arrivando Sta arrivando Davide Sta arrivando Sta arrivando Sta correndo Come cazzo fa a correre In quel modo No c'è qualche motore C'è qualcosa C'è qualcosa Ti diverti dai Eh con questo motore Ho le orecchie Comunque Allora Al mio tre Scendi dalla macchina E usi quella cosa Quella ferrovia Ah Ah Quella ferrovia No 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 Dici adesso More è finito Stai prendendo che cosa Vai vai usa quella ferrovia Usa quella ferrovia Dobbiamo fare una partita Ah ok Perfetto Buono Oh mio dio Oh mio dio Ma sono scampata Non ci credo Sì sì Mi sono scampata Adesso Oh Ok Capperti fritti Comandati Oh Sta arrivando Pure la save Stiamo vestiti Nella cacca Piutatale Aspetta Che mi devo cura Quindi Ah ok Mi devo cura Sì Ci indiamo Matti stai arrivando la save Siamo nella cacca più totale Oddio Va dentro Matti Matti Dentro la casa Dentro la casa Dentro la casa Ah La casa La casa La casa La casa Perché non siamo in safe Però Oh Vieni qua Che ci sta un bel po' di roba Vieni vieni Prendi tutto Tu Prendi tutto Tu E tutto Tu Sto controllando Solo Perfetto Ok Esco Attendo che ci sta la save Madonna Madonna Che andre Sto gioco Sto gioco è peggio E Quando pensavi che Fortnite fosse molto ansiolitico Anziolitico Cos'è Si dice ansiolitico Oh Lo hai detto Prendi tutto tu vai Grande Perfetto Oh Dobbiamo andare dentro la save Non so se l'hai capito Eh Come si fa Ci sta quasi per impolare Non lo so Allora Io direi di fare una cosa Riprendiamo la ferrovia La funivia No Ok Sì ma non mi lasciate da solo Vieni con me Sto attaccato alle chiappette Vieni con me Sto attaccato Sto attaccato alle chiappette Bravo Comunque se c'hai dei colpi di pompa Dabbeli Perché io lo usavo tanto bene Va bene E' buono perché io non c'ho niente Dobbiamo andare verso la safe Mi hai detto Sì Praticamente Appena scendi Corri Prendi la macchina E corri a sinistra Corriamo a sinistra Ok Se ti devi curare Vai 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 Non c'ho un cazzo Ah si ce l'ho a me Ah si si Mi posso curare pure dentro la macchina Oh capperetti Comandati fritti Madonna la safe Oddio Devi correre dai Devi correre Devi correre Devi correre in safe Meno male che ci stanno i cosi Meno male che ci stanno sti cosi Dai 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 Come che cosi La macchina Macchina Ah è un quadro questo lo sai Porca merda Ci stanno sparando Aspetta aspetta le munizioni Le munizioni per il pompa Come fai a vederle Ok Vai vai Non ridere Vedi se ci sta dietro qualcuno Certo Certo Ok Ci sta qualcuno No 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 non c'è nessuno Ok Mi ha fatto preparare le mani Le mani ce le avevo occupate Oh Ah No l'ho visto scomparire un secondo E non c'è cosa è successo Dai e gira Ah ma andiamo in safe Eh adesso si Questo che cosa lo dobbiamo prendere? Si lo dobbiamo prendere Perché praticamente ci sta un potenziamento Grosso Ecco Prendili tu Per l'armatura Che è di livello 3 E' fuori fortissima Lo prendila però Dove cazzo sta? Ma ti deve attaccare Al pallone pubico Oh Ce lo fai? Oh 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 Ma che cosa è successo? Oh Oh No Non ci credo Sei morto Sono mortissimo Che pizzo Sei tornato indietro già? No Non sono tornato indietro No Che pizzo